che abbiamo combinato grazie grazie veramente a tutti grazie a voi a voi che soffrite di più perché siete al sole grazie a chi ci sta ascoltando in tutte le piazze di questo villaggio perché abbiamo dovuto accendere gli schermi in tutte le piazze del villaggio e ci sono tantissime tantissime che ci stanno seguendo anche online grazie fatemelo dire con il cuore perché dal nulla abbiamo organizzato tutto questo un abbraccio veramente sentito alle tantissime volontarie e volontarie ragazze e ragazzi che stanno qui da quattro giorni per dare una mano che io neanche conosco molti grazie perché è solo la passione che vi ha fatto stare qui io lo dico subito non ho da proporvi una macedonia di invettive contro qualcuno di noi per strappare magari qualche applauso da tifosi ma vorrei proporvi un pensiero un'azione per provare insieme perché a me sembra questo il punto della democrazia italiana per uscire dal pantano in cui siamo precipitati e ricostruire una speranza per il nostro paese non ho da proporvi una macedonia di invettive magari contro qualcuno di noi per strappare applausi ma invece un pensiero rivolto al nostro paese io credo infatti che noi siamo qui perché l'Italia ha bisogno di due cose tra le tante l'Italia ha bisogno di crescere l'Italia ha bisogno di sviluppo e l'Italia ha bisogno di un immenso straordinaria iniezione di giustizia l'Italia ha bisogno di crescere e l'Italia ha bisogno di giustizia chi ha vinto il 4 marzo ha vinto perché è riuscito a prometterle e ha ricevuto dagli italiani uno straordinario consenso ma chi ha vinto ha iniziato a tradire quelle promesse e sta costruendo e lasciando soprattutto alle nuove generazioni un paese più povero e più ingiusto l'opposto di quello che avevano promesso molti cominciano a sospettarlo se posso dire cominciano a capirlo cominciano a vederlo nel nervosismo isterico e fanatico dei leader che hanno vinto le elezioni quello che forse ancora manca e questo dobbiamo essere noi è qualcuno che lo dica costruisca un progetto e li mandi presto a casa non sarà semplice non sarà semplice ma si può fare e io vi prometto con tutto me stesso che insieme lo faremo e ce la faremo a cambiare questo paese per farcela però dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare tutti in questi anni tanti si sono battuti anche io per questo cambiamento ma la novità e lo abbiamo visto dalla ricchezza dal pluralismo dalle storie differenti che si sono uniti in questo villaggio la novità è che si sta aprendo una strada nuova e che noi questa strada nuova e più forte la dobbiamo percorrere insieme ma dobbiamo cambiare molto perché a volte io avverto e lo avvertite anche voi quando guardiamo angosciati quei telegiornali che siamo in un punto nel quale a volte addirittura non abbiamo gli strumenti per combattere e quindi dobbiamo cambiare la prima rivoluzione che riguarda tutti noi è dire basta con l'illusione dell'io e ritroviamo l'ebbrezza e la bellezza del noi per questo quel video quel video nel quale mille persone con idee diverse pensieri diverse ma si sono uniti hanno suonato e cantato una stessa canzone noi perché la forza di una comunità o di un partito lo dico io perché ne sono sempre stato convinto non si può rinchiudere nella forza anche straordinaria di un leader ma ha bisogno di altro ed è vero non si deve tornare indietro quando purtroppo nella nostra storia ministri partecipavano a cortei contro il governo di cui facevano parte e paghiamo il prezzo di quella cultura ancora oggi in termini di credibilità ma il pendolo è andato troppo dall'altra parte in tutti gli attori della politica e anche in troppi attori di tutti noi del centro-sinistra e abbiamo rischiato di essere subalterni nella confusione tra la parola democrazia e la parola egocrazia ora basta siamo una squadra dobbiamo tornare a scommettere sulla forza di un campo di un campo ricco di un campo plurale di gruppi dirigenti collegiali dobbiamo tornare a scommettere su talenti che si affermano sulla propria forza dobbiamo diventare più ricchi nei contenuti dobbiamo tornare a credere nelle opinioni che contribuiscono a determinare una decisione io uso il noi perché è bello il confronto tra le idee e trovo insopportabile una pratica che è tutta incentrata spesso addirittura contro le persone che le idee le esprimono questo allogorato il nostro spirito di comunità dobbiamo tornare ad avere tra noi più rispetto e meno sospetto e riscoprire ma qui parlo proprio agli individui al valore della fiducia perché quando c'è fiducia e due idee diverse si incontrano si produce qualcosa di nuovo se non c'è fiducia l'incontro delle diversità porta allo scontro e ci indebolisce serve dunque una comunità nuova innanzitutto con liberi aggregazioni che elaborano studiano ricercano che ci mettano in relazione con la scienza con chissà con il dolore delle persone con intellettualità diffusa con tante ragazze e ragazzi una comunità e partiti servono non solo legati a programmi o tantomeno solo al potere come ha detto Paolo altrimenti saremo sempre sul balterni ma dobbiamo rigenerare un campo chiamando una nuova generazione al protagonismo riscoprendo una missione diversa fatta di valori di fondo condivisi dobbiamo soprattutto rimettere al centro le persone prima che i leader le persone prima dei leader sopra ogni cosa le persone che abitano e si organizzeranno in forma nuova dentro questo campo che dobbiamo iniziare a costruire per combattere vedete in un'azienda quando si deve cambiare si scommette sulle competenze in un grande paese moderno quale quello che noi siamo per rimetterci in moto dobbiamo investire sul capitale umano e allora io dico con grande serenità perché questo è stato un grande problema degli ultimi 10-15 anni noi dobbiamo smetterla di credere in questo e poi annullare le persone nei luoghi della politica dove diventano solo numeri voti tessere gruppi e tifosi a noi questo non serve più se è mai servito dobbiamo tornare alle persone al valore sacro della voglia di riscatto delle competenze delle decisioni persone alle quali non vanno date pacche sulle spalle o chiamati solo ad ascoltare al sole qualcuno che parla far contare le persone significherà trovare nuove forme della politica nelle quali le persone decidono ieri voi non avete idea quante persone molte delle quali non conosco che hanno affollato i gruppi di discussione mi hanno fermato dicendomi Nicola c'è una bellissima atmosfera un bellissimo clima una bellissima miccia ma non ci deludere non fermiamoci e quindi oltre a discutere sarà importante nuove forme per decidere decidere insieme perché se le persone non decidono se si sentono sempre marginali nella decisione alla fine si sentiranno sempre strumenti e quando passerà l'offerta peggiore dell'antipolitica le persone si perdono ecco perché la prima rivoluzione ecco perché noi ecco perché tanti ognuno con quello che può dare anche col tempo che ha con la speranza che ha dentro il proprio cuore con le esperienze che lo hanno segnato nella vita con le competenze che possono portare dentro un disegno e un'idea d'Italia che dobbiamo ricostruire noi per cambiare la storia italiana non illudiamoci dovremo combattere e avremo un immenso bisogno di questa comunità combattiva che sarà combattiva se sarà convinta e sarà convinta se sarà protagonista nel dire e nel decidere quello che noi dovremo fare e vedete e questo è il secondo punto noi dobbiamo farlo in fretta Piazza Grande è l'inizio di un percorso che porteremo in oltre ogni angolo d'Italia dobbiamo farlo in fretta perché l'Italia si sta dirigendo verso un crinale pericoloso intorno a un governo e a questo governo convergono diversi aspetti c'è innanzitutto non dobbiamo nascondercelo una grande aspettativa c'è una grande aspettativa che cambi in bene le cose noi non la condividiamo ma sarebbe stupido non leggerlo che su questo governo da una parte importante dell'Italia c'è una grande aspettativa e accanto a questa grande aspettativa c'è anche una grande incapacità una miscela esplosiva se non c'è un'alternativa grande aspettativa grande incapacità grande furbizia e grande spregiudicatezza e irresponsabilità e questo mix perverso si sta dirigendo verso una nuova fase del populismo che non è quella solo di raccontare frottole belleità ma quella di indicare capri espiatori di chi quelle belleità dovrebbero essere irresponsabili della non realizzazione io credo che il governo sta perdendo la sua sfida per il cambiamento ma vedo anche un pericoloso tentativo spregiudicato di fare di tutto per nasconderlo sta perdendo la sfida della scommessa perché quel contratto era un contratto irrealizzabile era un contratto di cui hanno la colpa perché nei contenuti era irrealizzabile era l'insieme di un mix perverso di promesse di per sé irrealizzabili parlano di povertà rappresentano la povertà ma poi scrivono un contratto nel quale l'unica vera grande riforma era la flat tax che rende più ricchi ricchi e più poveri i poveri e in un paese in cui la concentrazione di ricchezza ha raggiunto livelli insopportabili questo è uno schiaffo quel contratto non tiene anche perché ci sono idee diverse ma soprattutto quel contratto comincia a non tenere perché hanno sbagliato la manovra economica vedete noi siamo stati i primi in Europa a chiedere maggiori margini Padova i governi hanno battuto i pugni sul tavolo non dobbiamo nascondercelo questo noi non difendiamo l'esistente ma è evidente il danno è drammatico che quella scelta compiuta contro qualcuno e senza alcun sostraccio di investimenti sta producendo degli effetti drammatici c'è bisogno di noi per le strade per spiegare che il problema non sono i mercati non sono i mercati a colpire l'Italia sono invece le persone che hanno perso fiducia nei confronti dell'Italia che non finanziano più il nostro debito perché è fallimentare una politica economica che non c'entra niente né con la crescita né con i poveri ma è fatta di debiti di tagli e di tasse nulla di più vecchio che questa storia italiana abbia conosciuto un mix di debiti e non investimenti non significa aiutare gli ultimi significa togliere soprattutto i più giovani il futuro e Salvini e Di Maio in queste settimane stanno usando l'arma antica nella storia dell'integralismo del fanatismo della non ragione dell'odio del caprio espiatorio per nascondere questa incapacità ma in realtà lo fanno perché hanno paura di dire ai cittadini alle persone che li hanno sostenuti alle persone che vivono in Italia che già oggi già oggi per colpa di quella irresponsabilità su 10.000 euro prestati in 10 anni l'Italia dovrà pagare 3.570 euro di interessi la Spagna 1.680 la Francia 870 euro e che questo governo ci costa già oggi solo per l'aumento l'aumento del tasso di interesse sul debito 18 miliardi di euro come loro hanno scritto e che le ultime aste rispetto alle aste fatte dai governi sono costate in più 7,4 miliardi di euro quello che è accaduto è l'escalation dell'odio a questo motivo nascondere ai loro referenti sociali quante cose si sarebbero potute fare con 18 miliardi che la loro arroganza hanno bruciato sul lavoro sulla scuola sull'università sul sossegno alle imprese questa è la verità d'Italia oggi di una grande battaglia noi ci opporremo noi ci opporremo a questo furto di futuro noi ci opporremo a questo furto di futuro che non a caso vuole essere nascosto dall'integralismo e dal fanatismo che sorregge ormai una politica che non poggia più i piedi sulla pietra e l'escalation può nascere da lì è l'integralismo che abbiamo visto scatenarsi innanzitutto sugli immigrati hanno giocato e stanno giocando una partita sporca giocata sull'uomo sulla vita e sulla dignità stanno raccogliendo paure e stanno esaltando queste paure noi sappiamo che l'immigrazione è una sfida reale sarebbe stupido negare o non vedere come abbiamo fatto che mette in tensione la società aumenta spesso i disagi soprattutto nei luoghi della fragilità sociale ma è bene che si dica con forza che non siamo stupidi è fin troppo banale dire che l'atto politico vergognoso compiuto ieri da Salvini un leader che ha rubato 40 milioni di euro contro il modello di Riace è un atto immondo è un atto immondo e è fin troppo banale che un grande sindaco ovviamente Mimmo Lucano dovrà dovrà rispondere come ciascuno di noi che gestisce il potere essere verificato da parte di un corpo che esiste nella democrazia della magistratura se c'è stato qualcosa che non va noi rimaniamo garantissi sempre ci si difende dentro la giustizia guai su questo a derogare anche perché purtroppo Mimmo Lucano io sono convinto è una brava persona è una persona onesta ma non c'è solo lui ma è fin troppo banale dire che l'obiettivo politico è diventato un modello per affrontare questo grande tema e io so perché Salvini ha dato il via allo smantellamento del modello Riace e questo motivo si chiama paura di dimostrare che c'è un modello alternativo all'odio per affrontare il tema dell'immigrazione non è la forza è la paura che lo spinge a demolire le cose che in Italia funzionano questa è la verità hanno paura e se hanno paura di un uomo dovranno avere paura di un popolo che si solleverà contro queste ingiustizie ma allora di fronte a problemi grandi come quello dell'immigrazione a temi immensi occorrono grandi politiche che guardino in faccia la complessità del tema le speranze di diseredati che approdano sulle nostre coste con le paure di chi vive una condizione di disagio e vuole sentirsi parte di un proprio progetto di riscatto se non ci sono queste politiche si determinerà caos si determinerà paura e come loro vogliono con quel decreto si determinerà illegalità e l'inarrestabile declino umano che ci porta alle vergogne di lodi io penso che noi queste politiche dovremo avviarle implementarle che tengano insieme la complessità del tema ma io so che il punto di partenza il chiodo di partenza di nuove politiche non può che essere uno e semplice e contro ogni sentimento umano progressista e cristiano impedire di salvare gli esseri umani che chiedono aiuto per non morire poi facciamo tutto ma una vita deve valere tutte le vite una vita una vita deve valere tutte le vite e attenzione fermare il traffico dei migranti colpire gli scafisti è decisivo senza pietà ma noi non possiamo solo fermarci ad esultare quando i barconi non arrivano senza porci la domanda e porla all'Italia del perché non arrivano dove vanno quanti sono morti affogati e quanti sono scomparsi nei mari ecco perché occorre una politica nuova ed ecco perché serve questo popolo che si rimetta in cammino perché serve integrazione serve promozione serve protezione ieri i sindaci lo hanno detto non solo non si sta risolvendo questo problema ma con la smantellamento della rete dell'ISPRAR voluta dai nostri governi si stanno costruendo le premesse della crescita dell'odio della costruzione in alcune grandi città di luoghi che saranno inevitabilmente luoghi simili a luoghi di deportazione e di disagio noi dobbiamo in fretta chiamando a raccolta tutti i sindaci italiani ribellarci e fare di un movimento di amministratori un nuovo movimento di resistenza civica e civile dell'Italia e di costruzione di una nuova Italia di coloro che rifiutano un sillogismo pericoloso per cui alle periferie togliamo i soldi e diamo più pistole per rimanere nelle case a difendersi da soli noi confidiamo nella forza della giustizia della polizia delle forze dell'ordine non accettiamo un baratto incivile perché vogliamo sicurezza nelle nostre strade e uno Stato che la garantisce e non che dica o lucri sulla paura dell'individuo dicendo io me ne vado tieni una pistola fatti giustizia da te è incivile e non garantisce sicurezza abbiamo quindi visto il volto dell'integralismo e del fanatismo sugli immigrati ma si ripresenta in molte forme che dovremo denunciare c'è fanatismo e c'è integralismo contro le donne si affaccia si affaccia in maniera subdola con messaggi che evocano un ritorno al medioevo al passato sulla 194 sulla inesistenza delle politiche di genere come agenda di un governo che si rispetti si affaccia in maniera vergognosa nel drammatico disegno di legge del senatore Pilon che non deve passare e che non deve avere udienza in questo paese che rintroduce su temi come la separazione il divorzio l'affido dei minori concetti e metodi che mettono indietro di 50 anni le lancette dell'orologio io dico che rendono una vita ostacoli per coloro donne e uomini che hanno fatto delle scelte drammatici drammatiche e difficili io dico grazie a tutte le donne alle associazioni che con coraggio hanno lanciato la grande mobilitazione del 10 novembre non sarete sole saremo anche noi là perché è un insulto all'umanità solo pensare di introdurre il mediatore familiare nei casi della violenza in famiglia vergognatevi non ho altre parole che vergognatevi e di questa lotta dovranno essere protagonisti soprattutto gli uomini mai più delegare alle donne la lotta per la loro libertà e c'è e c'è fanatismo c'è fanatismo contro i giovani c'è integralismo contro i giovani li si usa ma li si sfrutta e li si condanna li si tratta come polli di allevamento noi guardate su questo sta avvenendo una brutta partita noi abbiamo proposto con forza anche sul reddito di cittadinanza lo ha detto Paolo lo ha detto il partito lo ha detto Martino lo abbiamo detto tutti se davvero c'è un tema di universalità di sostegno a chi non ce la fa c'è il REI il reddito di inclusione mettete più soldi ampliato la platea aumentiamo la quantità cambiamolo anche un po' cambiateli anche nome non ci offendiamo se vi vergognate di dire che l'idea era nostra non ci offendiamo se li cambiate nome e vi promettiamo che non lo diremo ma per come sta diventando la storia del reddito di cittadinanza in realtà questa scelta non c'entra nulla con la dignità dei giovani perché il combinato disposto di un provvedimento del quale non si capisce nulla insieme all'assenza totale di politiche per lo sviluppo la ricerca la scienza l'università la scuola il lavoro ripropone l'idea di una generazione come polli d'allevamento sudditi del potere senza speranza e piegati su se stessi è una miscela guardate esplosiva contro la quale noi dobbiamo combattere a me ha colpito molto che nella mia vita di amministratore mi è capitato di andare proprio parlando di povertà in quei luoghi meravigliosi della solidarietà della Caritas o di altre associazioni nelle quali noti la grazia la grazia che serve quando ci si avvicina al dolore delle persone nei mercati dove si prendono cibo a gratis alle persone che ne hanno bisogno si dà una tessera appunti poi possono prendere quello che vogliono e una volta chiesi ma perché la tessera il supermercato se tanto c'è uno scambio senza limiti e giustamente quel sacerdote mi disse perché noi qui diamo dei beni materiali ma non dobbiamo togliere la dignità in cambio di questi beni materiali e vedete io sono rimasto inorridito inorridito nel vedere il sorriso un po' ebbete diciamocelo del Di Maio di Di Maio quando in televisione raccontava soddisfatto non vi preoccupate noi ai poveri daremo i soldi ma li controlleremo lo Stato li controllerà e se vai a un mercato io ti metto in galera perché c'è un'idea di chi soffre come di una persona di cui non ci si può fidare vergognatevi anche qui mettete in galera i corrotti non i poveri perché hanno una soddisfazione vergogna ma non è questo che l'Italia può accettare e chiedervi e quindi sui giovani su chi ha più bisogno si scatena questo integralismo come l'idea beffarda ignobile che nell'anno dell'anniversario delle leggi razziali si cancella dall'esame di maturità l'esame di storia noi siamo con Liliana Segre che ha denunciato non si diventa uomini senza sapere quello che è successo prima e combatteremo su questo punto di dignità umana e invece è sulle nuove generazioni che noi giochiamo tutto non capiscono che il futuro dell'Italia è legato proprio dall'assumere e dovremo farlo anche noi fino in fondo dalla potenzialità di una nuova questione giovanile che si sta facendo nel nostro paese io sono d'accordo con Ferroni i giovani devono girare il mondo sono orgoglioso di essere presidente di una regione che con le risorse europee manda per il mondo migliaia di ragazze e di ragazze e contorno subito dice tornate ma noi dobbiamo cogliere la potenzialità non il problema di una questione giovanile e la potenzialità è il fatto è data dal fatto che parte della crisi italiana è che noi siamo ormai un paese che non produce più abbastanza i beni che il mondo consuma e quindi siamo una grande potenza ma dentro una competizione che ci fa perdere punti anche se è uno paese ricco di talenti e di opportunità e quindi avremo bisogno di capitale umano di trasferimento tecnologico di meno burocrazia di più libertà di accesso ai saperi ma dove entra dove entra la questione giovanile entra perché i grandi detentori di questa potenza possibile di creazione di innovazione è in una nuova generazione dell'era digitale che può cambiare in meglio questo storico meccanismo di trasferimento del sapere perché è evidente che può venire da lì quell'innovazione necessaria e di cui l'Italia ha bisogno noi per rimetterli in piedi questo paese abbiamo bisogno di nuovi meccanici con i nostri istituti professionali abbiamo bisogno di nuovi scienziati abbiamo bisogno di nuovi professionisti e abbiamo bisogno di un sistema più aperto che permetta l'incontro tra chi crea chi produce chi studia e chi vive nella pubblica amministrazione un ruolo attivo ecco qual è la questione di fondo di una nuova generazione allora vedete è tutto semplice dunque stanno sbagliando tutto e quindi siamo alla vigilia della riscossa no è ovvio che dovremo fare opposizione senza dubbio dovremo fare opposizione ma accanto a questo e qui è la terza innovazione cambiamento noi dobbiamo anche prendere e aprire una fase di iniziativa politica e di cambiamento su ciò che siamo non avvertite cioè anche voi qualcosa che non va la sera quando vediamo i telegiornali l'ho detto prima con una battuta a un amico sembra quasi quel film Independence Day dove arrivano le astronavi dei marziani tirano giù gli scudi i buoni che saremmo noi sparano ma lo scudo non gli fa niente c'è questa sensazione c'è la sensazione che le nostre ragioni le nostre convinzioni alla fine non scalfiscono e non c'è dubbio che uno dei temi è stato le nostre divisioni ho detto siamo qui per rifondare una cultura politica ma poi c'è qualcosa anche di più che dobbiamo cambiare che dobbiamo indagare noi dobbiamo cominciare a riparlare a un popolo che ci ha voltato le spalle e che ha fatto altre scelte io sono stato accusato e questo mi è molto dispiaciuto di essere quel leader politico che voleva fare l'accordo con i 5 stelle non è così non è così io credo che noi dovremmo fare politica incalzarli dividerli disarticolarli con l'iniziativa politica se avessi voluto fare un accordo un accordo di massima l'avrei fatto innanzitutto della mia regione ma non è così ho casomai fatto di tutto per due volte per sconfiggerli perché sono di una cultura diversa dalla mia ma il problema è un altro noi dobbiamo incalzarli per dividerli e non solo per facendo propaganda unirli io rivendico invece un'identità un'iniziativa che si rivolga a una massa sterminata di elettorato di popolo che non guarda più a noi che aspetta da noi segnali per riconquistare quel popolo e spostare l'asse del consenso in Italia che è una cosa totalmente diversa che spetta alla politica compiere che spetta alla politica assumersi le responsabilità ma noi dobbiamo cambiare anche aprendo una nuova stagione Paolo lo ha detto in un suo passaggio che non vuol dire né rinnegare né cancellare né rinunciare ma discutere serenamente sulla nostra storia e sapete qual è il punto è avere il coraggio di far dare in faccia il mostro e il mostro non sono solo le idee eversive di Salvini che dovremo combattere ma il vero mostro è perché hanno scelto loro perché le persone hanno scelto loro il vero mostro è perché troppe volte dietro quegli slogan si riunisce un consenso e io credo che il perché sia in parte dovuto alla novità che in Italia in Europa nel mondo in questo squarcio di secolo non stanno vincendo i Reagan le Thatcher o da noi gli ibridi Berlusconi stanno vincendo nuove destre che nelle parole negli slogan tentano e in parte riescono ad invadere il nostro campo questo è il punto vero su cui indagare noi dobbiamo fare opposizione ma non possiamo rischiare di rimanere in un ruolo di testimonianza noi dobbiamo innervare la nostra opposizione su un'agenda nuova si dovranno utile di una nuova anima di una nuova visione e offrire a quei bisogni che si sono sentiti traditi un'alternativa nuova che li riconquisti a una prospettiva di vita per essere credibili cioè noi dobbiamo indagare su questo distacco non c'è dubbio che questo distacco ha un motivo e si è generato guardate in questo decennio lungo nel quale il consenso alla sinistra al centro-sinistra al PD è passato incredibilmente da 12 milioni a 6 milioni di voti e incredibilmente in questo sesso decennio sono cresciute in maniera intollerabile le disuguaglianze e c'è un nesso tra questi due elementi e il nesso è che malgrado tutto ciò che abbiamo fatto i grandi risultati che abbiamo ottenuto tirando fuori il paese dalla crisi si è determinata una rottura perché al fondo nel momento del bisogno troppe persone non ci hanno sentito lì vicine in quel momento del bisogno e quando la politica non risolve i problemi l'antipolitica li rappresenta e li strumentalizza io quindi non voglio non penso e non credo nel tempo delle abbiure ma credo e voglio un tempo di riflessione e di cambiamento che rimetta al centro la questione delle disuguaglianze e della crescita come grande nuovo paradigma di quello che dovremo diventare io so perfettamente che dire giustizia non significa solo intervenire sui dati macroeconomici che pure sono importanti sono fondamentali sul riequilibrio dei redditi che va ricercato sulla difesa del mondo del lavoro ma noi dobbiamo andare a indagare dove nasce questo malessere e ci accorgeremo che nasce da un insieme di fattori come il non funzionamento dei servizi che fa scatenare una lotta selvaggia che non capiamo più che è legato a quell'insoddisfazione lo ha detto ieri Merola quando in un decennio abbiamo tolto per fare certo quadrare i bilanci 10 miliardi di euro di trasferimento agli enti locali ma forse senza fino in fondo riflettere quanto quell'atto avrebbe voluto dire per chi aspetta un autobus un laboratorio aperto un diritto aspettarlo per troppo tempo ecco quindi la ricerca non la biura ma l'ammissione di una fase storica che è alle nostre spalle nella quale forse troppo ci siamo convinti che di per sé la costruzione del nuovo portasse anche di per sé con la crescita alla lotta delle disuguaglianze e invece che non sia così ce lo dice addirittura Paolo VI quando nella Popoloro un progresso scrive non basta crescere la ricchezza comune perché sia equamente ripartita e non basta promuovere la tecnica perché la terra diventi più umana e dell'abitare noi abbiamo bisogno di un riformismo che non rinuncia ad essere conflitto dentro la democrazia un conflitto che non perde l'anima perché non rinuncia in forme nuove a non tradire il motivo stesso perché noi esistiamo ridurre le differenze tra chi ha e chi non ha perché se noi siamo questo il populismo muore e allora e allora anche qui occorre un'altra rivoluzione una missione politica che noi potremmo fare credibile solo se la costruiamo insieme se quelli sono i tassi delle disuguaglianze noi dobbiamo pensare costruire ragionare su una nuova piattaforma economica da proporre come identità al nostro paese e che io chiamo la nostra economia giusta la ricchezza e l'equità come due principi assolutamente legati tra di loro l'economia giusta fondata sul dovere di crescere e sull'ossessione di ridistribuire la ricchezza all'insegna dell'equità noi dobbiamo tornare ad essere coloro che quando si fermano per strada e ci chiedono te chi sei noi possiamo rispondere noi siamo i migliori a crescere e i più testardi a difendere l'uguaglianza questa è la nostra identità da costruire e io so che troveremo anche slogan semplici per comunicarlo dentro un tweet vecchio modello con meno parole di quelle che servono oggi troveremo le formule per comunicarlo in maniera efficace ma tra di noi non prendiamoci in giro a temi complessi occorrono politiche grandi e quindi l'economia giusta dovrà rimettere in campo il grande tema della competitività dell'investimento sul capitale umano sull'idea della centralità della scienza contro i nuovi stregoni del trasferimento tecnologico fatemi dire da amministratore della cancellazione del costo dell'incertezza nella pubblica amministrazione per chi vuole aprire un negozio una bottega una grande azienda quante volte quante volte anche con Paolo con la De Micheli ogni volta che c'è un'emergenza chi gestisce il potere si chiude in una stanza e dice se vogliamo fare in fretta dobbiamo trovare dei poteri dei regolatori perché se no non si fa niente e noi almeno lo abbiamo fatto sulla tragedia del terremoto c'è chi per una tragedia come il ponte crollato dopo mesi sta ancora discutendo su chi lo deve discutere ma questo è il grande tema l'eliminazione del costo dell'incertezza l'idea di rifondare un welfare come ha detto ieri Bonomi tra il non più e il non ancora e che lascia vuoti tanti spazi che finalmente ricolloca il mezzogiorno come grande questione nazionale perché si illude chi pensa che l'Italia abbia udienza in Europa solo se si presenterà metà Italia senza le energie del mezzogiorno ecco perché dobbiamo su questo costruire una nuova agenda in Italia questo può voler dire tante cose a proposito di comunicazione riscrivere un'agenda di priorità da raccontare al paese e con il quale ricostruire rapporti possiamo essere noi ad esempio in alcune regioni lo abbiamo fatto coloro che nella prossima finanziaria fanno una battaglia di principio affinché in Italia non esistano più ragazzi universitari che sono beneficiari di borse di studio ma non la possono ottenere perché non ci sono i soldi facciamo sparire questa figura dal vocabolario e così via per fare questo e mi avvio a concludere abbiamo bisogno dell'Europa e abbiamo bisogno ovviamente di una nuova Europa vedete lo schema con il quale stiamo andando alle elezioni europee noi dobbiamo cambiarlo perché nel mondo in questo momento c'è chi vuole distruggere l'Europa non credo che si siano visti da qualche parte per deciderlo ma una vicenda di interessi oggettivi ci sono nuove potenze mondiale che hanno cambiato la loro strategia gli Stati Uniti di Trump non è quella di Obama la Russia di Putin la Cina i grandi capitali arabi stanno costruendo un nuovo modello di governo del pianeta che sta colpendo e picconando tutti i luoghi del multilateralismo del pianeta emblematico è stata la scena di quando Trump si alza dalla riunione del G7 li fa discutere e va dal dittatore coreano a discutere degli equilibri del pianeta vogliono distruggere anche l'Europa indebolirla disarticolarla perché se l'Europa è debole nel confronto mondiale ci sono meno competitori e questo già chiarisce quanto coloro che si nominano in Italia sovranisti sono i peggiori nemici della sovranità italiana questa è la verità sono i peggiori nemici e quindi lo schema che dobbiamo costruire è diverso non è loro la vogliono cambiare noi la vogliamo conservare loro la vogliono distruggere noi la vogliamo rifondare perché c'è bisogno di un'altra Europa e io penso che per farlo dovremo costruire grandi alleanze anche qui voglio chiarire io ovviamente sono d'accordo alla costruzione di grandi alleanze nelle elezioni europee che arrivino come ora va di moda dire ma io sono sempre stato d'accordo chi mi conosce qua vedo Piero Fassino col quale abbiamo combattuto battaglie antiche per salvare l'Europa da Macron a Tsipras bene sì ovviamente ognuno con la sua storia ognuno con la sua identità ognuno con le sue famiglie ma ovviamente sì costruiamo un fronte che chiarisce lo scontro e chiarirà lo scontro in quel Parlamento ma io dico però anche un'altra cosa per non svegliarci attoniti il giorno dopo l'accordo o la piattaforma i contenuti di questo nuovo fronte per la nuova Europa o sono chiari nuovi e puntano su una nuova missione dell'Europa oppure i cittadini non lo capiranno perché l'Europa è stata forte quando ha avuto una missione la missione della pace nel dopoguerra poi la missione del lavoro la missione dell'allargamento delle democrazie ad est l'euro grande missione avvertita dai cittadini quel grande presidente Carlo Azzeglio Ciampi introdusse una tassa per l'Europa tra il tripudio dei cittadini italiani che poi abbiamo restituito a proposito della nostra storia ma quello che è evidente è che gli europei e tra gli europei quella missione dell'Europa era chiara e questo ha costruito un grande consenso poi è accaduto non per colpa nostra anzi noi stavamo dall'altra parte della barricata ma per responsabilità delle destre europee che non volevano l'Europa massima possibile ma l'Europa minima necessaria si è rimessa in discussione l'Europa politica della politica estera della politica economica della bandiera dell'inno dell'unità dei popoli per sentirsi più sicuri e allora quello che io dico che va costruita a livello europeo certo una piattaforma la più unitaria possibile ma su una nuova idea di Europa che ritrovi una sua missione e questa missione non può che essere perché solo a livello continentale si può fare l'unico strumento che abbiamo per difendere le persone dalla violenza della globalizzazione e là costruire le nostre nuove politiche per difendere perché anche noi abbiamo pagato le nostre subalternità o l'illusione che di per sé crescere sarebbe voluto dire ridistribuire quindi certo un nuovo fronte ma con la consapevolezza e qua si disegna il nostro ruolo che non si deve stare in Europa perché costretti si deve stare in Europa perché convinti e le convinzioni ci sono ma dovremo combattere ecco perché e chiudo c'è bisogno di questa nuova fase che non è una fase contro qualcuno per i motivi che ho detto ma serve una nuova cultura politica del noi serve una nuova piattaforma economica e sociale che sia l'economia giusta la crescita giusta serve una nuova Europa più democratica che nei giorni nei quali andremo a fare campagna elettorale nei tavoli nelle scuole nell'università ci permetta di dire noi siamo quelli che la vogliono cambiare e rendere più democratica anzi posso permettermi di ridire nuovamente anche se so che sarà una battaglia lunga come fu lunga la battaglia di Altiero Spinelli noi dovremo condurre quella battaglia nel nome degli Stati Uniti d'Europa con l'elezione diretta del presidente degli Stati Uniti d'Europa per offrire un orizzonte verso la nostra direzione contro la loro direzione che è tornare indietro verso i nazionalismi e la guerra questo dovremo fare e per questo serve un popolo e serve un progetto e se mi chiedete chiudo qual è l'anima del progetto io non ho dubbi a rispondere è riscrivere insieme un pensiero che unisca la nostra più bella storia di cui essere orgogliosi e i più grandi contributi che possono venire dalla ricerca del nuovo e che parte da un concetto semplice ora prima le persone e intorno alle persone la costruzione di un nuovo modello di società per farlo dovremo combattere io lo dico a tutti a coloro che in queste queste piazze hanno i capelli più bianchi e si ricordano grandi battaglie e anche ai ragazzi e alle ragazze che ho visto e vediamo si stanno mobilitando nelle scuole e nell'università io voglio dire a tutti ci sono dei tempi nei quali c'è capitato vivere con il vento che andava in un senso ed era addirittura semplice tanto semplice da potersi prendere il lusso di non impegnarsi perché tanto c'era un fronte che teneva non è questo il tempo che stiamo vivendo c'è bisogno di combattere c'è bisogno di tornare a sentirsi parte di una sfida di difesa della democrazia in questo paese di farlo con un popolo che non è conquistato di per sé a idee e a pensieri velleitari e spesso pericolosi ma che mettono in discussione diritti elementari degli individui dobbiamo riprendere le forme collettive e democratiche della battaglia della ragione col motore della passione non dobbiamo avere paura della loro forza dobbiamo essere coscienti della forza delle nostre ragioni e dobbiamo mettere in questa battaglia passione e coraggio e riorganizzazione di quello che siamo e del nostro pensiero in fondo il crinale che abbiamo davanti è questo ed è rivoluzionario e per questo all'ingresso di Piazza Grande abbiamo messo quella frase perché è evidente che se è questa la sfida è davvero stupido pensare che lo possa fare un leader da solo anche il migliore ma non esiste leader se dietro non c'è una comunità consapevole che combatte è vero da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano e noi dobbiamo andare lontano grazie 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 grazie